Allora Giorgio, di ad Alex una cosa bella, ok la torgina? Vedi questo orologio che segna mezzo giorno in punto, te lo devi mettere, te lo devi mettere No, 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 ma cosa? No, assolutamente, pensavo che tu, dai sei un imbecille, allora io non devo bippare le tue cose E poi sei che la torgina, femminile, educata, oddio, puoi essere anche scurrile quello che ti pare, però insomma Sei una cica mala, sei una cica mala, terribile la torgina, cioè che schifo La cica diabla Una cica diabla, non si dice cica diabla, si dice cica mala No, esistono anche le diable Tutte e due esistono Ma davvero, seriamente? Certo, quelle diable c'hanno anche la bestia, ecco qua la bestia della cica diabla catorgina Va bene, ok, allora adesso che abbiamo smesso di scippare un pochettino, possiamo passare al video di oggi Costruzione di case, ma quest'oggi con catorgina insieme ad Anna Qual è il tema di oggi? Il tema di oggi è casa Among Us, il gioco che ci sta facendo infibrillare i sederini Una cosa bellissima Una mamma mia Mi piace un casino A chi piace, tranne a Giorgio, Giorgio non piace perché perde sempre No, io perdo perché? Per colpa di chi? Per colpa tu? Ti faccio vedere, aspetta Guarda un po', adesso ti faccio vedere Uh, ecco Giorgio, una finestra Wow No, 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 forse devo prendere le parti di catorgina, lasciala stare Sì, 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 ok, hai ragione, hai ragione Ed ecco Giorgio, una porta La porta Wow, si apre Incredibile, incredibile Vabbè, ce ne andiamo noi, arrivederci Aspetta un attimo, Giorgio Ma che ti faccio vedere io che cos'è Lion Ed ecco Giorgio, un cartello stradale Ecco Lion, un vaso Non fai ridere, non fai ridere Ed ecco Giorgio, un cartello Non fa ridere, non fa ridere Invece sì, fa molto ridere Adesso ve ne andate perché dobbiamo iniziare a costruire Va bene, grazie del vaso Arrivederci Arrivederci entrambi, noi dobbiamo andare Ciao Ve ne andate voi quindi No, ve ne dovete andare voi Andiamo noi Verso sopra Alex Nau Verso sopra Allora, sì, sì Catorgino, catorginone Allora, aspetta Io ho tre cose in mano Sì Una sveglia Questo e questo Fanno schifo tutte e tre Non è vero, non è vero Allora, possiamo sfruttare quella La sveglia forse, non lo so Però adesso Prima la sveglia è stata in posti brutti, eh Prima Ah che schifo, butta tutto Allora, dovrei fare il saluto che faccio anche a Feri Quindi mi raccomando, occhio alle orecchie Aspetta, come si fa? No, perché Feri è facile Ma cos'è il saluto di Feri? Scusa Feri E vabbè, però a te come fa? Non la voglio, non farlo con me Non farlo Non farlo Catorgino Non farlo mai più, ok E tu dovresti rispondere Come non rispondere? Ciao No, vabbè, lasciamo perdere Non sei funzionale Allora, dunque Innanzitutto dobbiamo determinare qual è il centro Che dovrebbe essere tipo questo, secondo me Sì, è perfetto Mamma mia Allora, perché devo creare questa creatura immensa Che sarà tipo così Ma aspetta, scusa un attimo Loro perché già sono lì? Cioè, non è naturale Non ti preoccupare Adesso faccio io Allora, dunque Mi devo ricordare che il magenta è 251,2 E devo fare H, chill 251,2 Ah, ma usate le cose scorse voi Sì, quella è un po' azzuzzerellone Allora, devo fare Ma è legale? Certo 4 Facciamo 4 4 Vai, bro Nessuno ha visto niente Nessuno ha visto niente Ha visto È lì che Cosa è fatto? Ha rotto tutte le cose Cos'è? Cosa c'è? Ho visto un cerchio Azzurosa Ma che hai visto? Ma c'è le travergole? Ma sei matto? Scusa, stai zitto Ratto maledetto Ok? Che a vederti sembra che ti ha vomitato Qualche animale enorme Ma sei matto? Cos'hai visto? Guarda, non dissimulare con me Anna Perché ti devasto quello che stai costruendo Brutta deficiente Ma non l'hai visto? Cosa c'era? Ho visto un cerchio Vabbè Anna, hanno le allucinazioni Ma no, no Scusa Andiamocene Guarda, questo è il mio piccolo cilindro Basta, andiamo Tutti fatti Tutti fatti Ma che cosa hai fatto? Hai scritto 400 No, ho 44 Perché ho vogliato mettere lo spazio Ma vabbè Ma io che devo fare in ogni caso? Perché sono fermo a guardarti qui Non ti preoccupare All'inizio è sempre così Allora, devo fare 4 4 E basta stavolta Un 4 solo, vero? Così Pof Ok, è giusto Sì, è giusto Mamma mia Ma è più piccolino del loro Guarda, è molto più basso Eh, non mi importa Perché adesso ti spiego cosa stiamo per fare Allora Questo qui è il nostro Among Us creaturino, no? Però, allora Tu innanzitutto gli devi fare le gambine Ti ricordi? Come sono fatte? No Allora, le gambine dell'Among Us Baby Cioè, l'Among Us Sono tipo dritte Così Ok Però tu devi fargli un piccolo cavallo Perché allora, tipo Questa è la gambina Così Però, cioè Sono gambe Quindi non è che puoi fare intero Quindi farei così E poi un ponticello E chiudi qua, tipo così Ah, ho capito Capitissimo, ho capitissimo Ok, ok Allora Io confido in te Intanto io faccio Praticamente Ti spiego Allora, siccome questa qui è la casa del femminucce Ok Non sarò molto contento al riguardo Però va bene Non ti preoccupare Hai presente la mia skin? Sì Sì Che ha tipo altri omini insieme Vabbè, la tua su Among Us Sì, sì, su Among Us Ok, sì, sì, sì Ecco Pre Eh Voglio Ok Voglio creare Un piccolo Among Us Tipo che sei te E un altro piccolo Among Us Che feri Ok Ok Io come sono in versione femminile però Eh Sì Aspetta Ho sbagliato Perché questa è di colore Sette Quindi farò così Ecco Sette Ecco qua Allora, questo sei te Piccolino Seduto Ok, sì Ok Ah, perché ogni testo è ognuno di noi No, è perché Allora, tipo io ce n'ho uno anche al seguito Quindi farò così Due Ecco Mamma mia Non ce la posso fare Intanto tu mi devi fare una cosa Sì Allora, hai presente che loro hanno un oblò Eh, sì, sì Quello tipo che è la faccia, no? Sì, è la faccia, è l'oblò Ok Voglio che tu mi inizi a creare l'oblò Eh, i piedini mi piacciono Aspetta Questo qui bisogna essere per forza così Fai vedere Allora, io avevo pensato di tagliare in mezzo Perché non so se ci sta tanto Questa cosa schifosa Non mi piace Ecco, così 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 Tipo sembra un po' più un piedino Eh, aspetta Se tagliamo così in mezzo Sì, bravo Tagliare in mezzo Tagliare in mezzo Ok E riempa ai lati, capito Ok E qui mi fai Te lo sto bucando Qui mi fai l'oblò Così Eh, ma esce anche fuori Ti ricordi? Cioè, tipo in Come in Sì, sì, me lo fai in 3D Tipo con Ok Ok Così che circonda Non lo so Fai un po' denso Di vetro? Faccio vetro? Eh, sì Di vetro Io intanto faccio le gambine Di questo Among Us Che sei te praticamente Ecco qua Ok Che cos'è il cusa? Più o meno Queste sono le gambine E questo sito Ah, sono seduto Eh E adesso ti faccio Ti metto anche un poco di formaggio Perché tu hai il formaggio in testa Ma non puoi fare anche il cosino Lo faccio io Il cricettino No, perché devo fare anche un altro animaletto Non abbiamo tempo per fare tutte queste cose Ok, va bene, va bene Ok Allora facciamo così Questo è il formaggio Tipo Ma Sì Vediamo Insomma Così Aspetta No, fallo così Guarda Tipo No Tipo Sei un genio Però qui deve essere un po' Ecco Così scendente Perfetto Allora Io adesso ti faccio il vetro Però te lo faccio Tipo Secondo me È buono Ehm Boh Quel colore Dici O come lo vuoi mettere Eh, quello Il colore Vabbè Chi se ne frega Metterò questo Tipo È per tutti i blu Comunque Così Faccio così Guarda qua Ok, ok, ok Questo sei te E adesso ne devo fare un altro Qui Ma il mio va bene Guarda il mio blu Perché è un po' Forse troppo cicciotto Eh, no Mi piace Mi piace Però secondo me Se no posso farlo tutto tipo Su un livello solo Cioè non mi interessa Come il mio Eh, allora Io innanzitutto ti volevo chiedere una cosa Perché praticamente Questa qui Che dovrebbe essere la casa È da snotare Perché c'è tutta la sagoma struttura Ah, ok Quindi anche tutto E le gambe No, qua non possiamo spaccare Ci sono le gambe Eh, non fa niente Facciamo così Allora, aspetta Eh, come facciamo E se iniziamo da qui Tipo se il primo livello è qua Guarda Ho rotto tutte le cose Giorgio Aspetta, no Allora Qui deve rimanere aperto Ok, perché sono le gambe Capito? Sì Ok Quindi noi facciamo Che inizia tipo qua Ok, però Così Aspetta, guarda Ecco così Ecco In modo che noi abbiamo anche delle mini stanzette Giusto? Aspetta, controllo da fuori È giusto È giusto Sì, fixa quello che non è fixato Ok, fixato Ok E facciamo tipo a due piani Che questo qui è il finestrone Tutto bello Io intanto faccio l'altro piccolino Che è qui E lo farò di un blocchetto più alto E sarà di colore fairy E sarà 6 Perché noi abbiamo solo un'altra fettura Minuccio Che è fairy E quindi faremo Io qua spacco tutte le cose Non spaccare tutte le cose Alla dentro Alla dentro Non ti preoccupare Aspetta Ok Faccio le stanzette come hai detto te Io intanto bravo Io intanto Calma, calmati Aspetta, allora Ok, così Ok Guarda Io sto facendo fairy Che è tipo Aspetta che esco Aspetta che esco Non vedo nulla Così Così Ok Così Mamma mia Però Ammongas Ma può arrivare sui bordi la casa? Fairy a Mongas Non esiste No E quindi Dobbiamo essere un po' pittoreschi E secondo te Una così Un cartello con scritto boomer Due cosine così Senti, sente Tanto non lo vedrai il video Se lo vede ciao Lo vede Lo vede Te lo dico io che lo vede Però Allora Ok Allora Secondo me Ci vuole Ti faccio vedere Una cosa è Un'idea bellissima Ma tu intanto continua Appena ho finito Te lo dico E con il quarto se continua Aspetta è impossibile E tu continua Quando ho finito Te lo dico Ok va bene Mi sto strozzando Però ce la posso fare Allora Faccio così No Poi così E faccio Ecco qua Ecco È fatto Questa è fairy Ok Perché è un altro Perché a lei piacciono È un fiore È un fiore Esatto Ha un fiore E tu invece hai il formaggio E questa sono io Ed è tutto bello Ok perfetto Aspetta ma in ogni persona Dobbiamo fare una stanza No E anche in me Anche in fairy No Al massimo mettiamo un oggettino Che si vede da dentro Che li rappresenta Sì 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 Va bene va bene Ok allora Te ne occuperai tu Intanto io mi occupo Di sistemare qua la casa Allora aspetta Io ti ho tolto tutto qua I bordi Se vedi C'era la stessa cosa Che c'era qua Che formava tipo Questa forma geometrica Sì sì mi piace Molto bravo Ok Sei stato molto Mamma mia Anche troppo Aspetta Che cosa mettono Dentro fairy Cioè Allora tu hai detto Che lei ha un tratto Particolare Sì Quindi devi trovare Qualcosa che sia Dica Ok capito Capito Una cosa antica Vabbè Non la voglio dire Allora Dunque Carpet Voglio mettere Un carpet Le magie con i tavoli Di incantamento Sì per forza Sì Quelli sì Allora Mi serve Metal Mi serve No Aluminium Sì L'alluminium mi piace Perché praticamente Voglio fare Cosa c'è Cosa stai facendo Allora sto facendo Non sono abituata Che mi vengono fatte Dove Scusa che Come funzionano Non lo so Non lo so neanche come funziona Funziona però Allora dunque Sto creando Una stanza Praticamente sto ricreando La stanza principale Quella di dove c'è il button Che tu no Devi correre per premere Ok se c'è un sospetto Glicchi lì Esatto Quindi mi serve Un tablet Un tablet Un tablet Uno bello però Mi serve Ma esiste un tabletondo Qui No perché Non sarebbe funzionale Quindi metterò Uno normale bianco Questo qua Ecco Ah quindi vuoi simulare La stanza quella principale No Sì esatto Ecco metto qui Un tablet Poi mi serve Serve un button E se non sbaglio C'è proprio un button rosso Eccolo qui Eccolo Ecco Bello Fa schifo Fa schifo Io ho guardato Mentre l'hai messo E dopo un nanosecondo L'hai tolto Fa schifo Ecco Ecco Vediamo Aaaaa Perché non si illumina Io comunque ho fatto Peri penso Vabbè lo lasciamo così Ma è un po' triste E non c'è Ho un'altra idea Allora La lamp Ho una cosa bellissima Io ho un'altra idea Però aspetta Te la dico dopo Tu fai Tu dici Sì 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 Aspetta Tipo Questo Questo qui Così Lo tolgo E Così Perfetto E' un button Amici Prontissimo Voglio cambiare squadre Subito Perché Alec è stupido E' tonto E' tonto E' un tonto E' un tonto Perché Io gli ho detto Vieni catorcina Vieni ti spiego Allora praticamente Immaginati che io ho detto Guarda Qua scaviamo questi blocchi Per fare una linea Facciamo così Lui ha fatto esattamente questo Ah sì Scaviamo questi blocchi Per fare così Che ti sembra Da fare la richiusi Per poi rimetterli Vabbè Voleva far tenere Capito Scusami No E' un apocalisse Il suo cervello Ci sarà buona bomba Allora lo accettiamo tra di noi Lion Comunque è carino No non voglio stare tra di voi Ci siete Come non vuoi stare tra di noi No c'è Giorgio Fa schifo Come vuoi catorcina Guarda c'ha quei capelli Giorgio è the best catorcina ever Non si lava mai C'ha i capelli Quello è cico Parla per te Per favore Guarda sembra che gli ha sbrattato Adosso un neonato Ma che schifo E lui ci ha messo un fiocco sopra Invece di lavarsi Che schifo Che schifo Alex sta zitto però No allora Alex può parlare Perché è molto più forte di te Ecco Ma è vero Secondariamente io vi dico Che potete Potete anche spicciarvi Perché noi stiamo a buon punto Abbiamo quasi finito Quasi finito Quindi ce ne andiamo adesso Perché abbiamo bisogno Ciao 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 Via 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 Giorgio Che cos'hai? Io ho un bel tempo Cos'è? Allora Aspetta Ma mi è venuta Allora l'idea che mi era venuta No? Però non posso più farla Ok non la facciamo più Perché cosa volevi fare? No allora io volevo fare Che tipo Però ho pensato Che poi c'erano le stanze sotto Tipo al posto del muro sopra Un finto muro di ferro Con le porte Quelle blindate Capito? Sei un genio Eh ma non possiamo Non possiamo Non fa niente Piazza la porta comunque Non fa niente Non posso perché ci sono Al centro c'è il buco delle scale Che popole Allora aspetta Allora non fa niente Non fa niente Aspetta Aspetta No 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 Mi piace la tua idea Allora però Voglio fare Aspetta Mi sto sorsando Allora Allora Aspetta ok 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 Dor Io ho finito la stanza mia penso Però non ne sono sicuro Poi vieni a guardare tu Voglio sapere cosa hai messo E se sei stato onesto con te stesso No allora Devo finirla la mia Però in quella di ferie Ho fatto il tempio del Boomerismo Ok mi piace E ne ho fatto il tempio del Cos'è Del formaggio Sì e adesso devo mettere il formaggio Molto bello Allora io ho fatto così Secondo me Può funzionare comunque Aspetta vediamo È perfetto È così È quello che volevo fare E la mettiamo qui E la mettiamo qui e amen Non fa niente Però aspetta se spacchiamo qui si vede fuori No Non si vede Eh possiamo fare tipo in ferro Sì che si vede fuori E però tipo tutto attorno qui finché non siete possiamo fare di ferro Capito? Occupatene Io intanto sto sistemando le stanze di sotto perché Allora fammi Dimmi due stanze che ci sono nel gioco Allora il generatore Puoi farlo Ehm Tipo ti serve qualcosa arancione e delle luci azzurre E basta solo questo Arancione No aspetta Oddio Ma calma allora ok Mi serve uno schermo Perché voglio fare No Cosa? Anna vieni qui Cosa succede? Vieni a guardare cosa ho messo È bellissima Ah mamma mia Procedi Ok no qui non posso Allora aspetta Mi serve un Ehm Ti aiuto a cercare dimmi cos'è Allora voglio creare la stanza quella lì dove tu piloti Ok sì Quindi mi serve Il pad no? Quello dove devi riparare ogni volta tutte le cose Quello dove devi sparare Eh ok sì 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 Allora io metterò tipo qui No? È proprio piccolina come facciamo? Ehm tipo qui Poi metto un tablet Così Ok Ho messo tutti i tablet No aspetta 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 Al posto i tablet usiamo tipo questi blocchi di ferro che stanno più Fall Guys E mettiamo il computer Sì mettici un computer e Amen Così? Bel Non proprio Un po' povero Ma va bene Non fa niente Lo facciamo anche dall'altro lato così sa pure di sala di controllo Ecco allora dall'altra parte metti un'altra stanza di quelle che ti vengono in mente a te Ok va bene Che tu sei molto intelligente Io non so come si farà ad entrare qua dentro comunque Qua dentro dove? In questa casa cioè io non so come si farà Ah è vero? Eh però Aspetta 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 Non fa niente Non c'è La tua idea era bellissima Però facciamo così Che questa è una Vedi una porta un po' più Ok dietro lo spacchiamo Efficace E qui spacchiamo Facciamo così Ecco qua Vedi? Ecco E come facciamo? Facciamo tipo un tunnel Tipo che ti butta nello spazio? Sì Tipo così guarda Con il metallo questo Ok va bene va bene d'accordo Ok Tu finisci le stanze Giorgio Vai 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 Eh sì Corri Corri Che manca poco Eh però io non so che cos'altro mettere Il generatore come lo faccio nell'altra stanza? Eh allora Ho un'idea Praticamente nella sezione della Cisal ci sono dei blocchi che sembrano tecnici no? È presente No aspetta Aspetta io non so usare tutte queste cose Non so dove fai Allora corri nelle tab C'è una che ha uno scalpello Ok E' nella pagina 5 di 6 E' l'ultima Ok La vedi? Trovata Se tu scorri 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 ancora Trovatissimo sì Ecco Eh praticamente troverai dei blocchi molto interessanti molto tecnici Tipo Sì 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 Questo 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 te li sto buttando Questo Ok grazie Eh Aspetta E questo E magari anche uno di quelli lo puoi mettere nella sala di comando che può sembrare un po' più fascinoso Va bene va bene va bene va bene va bene va bene Cisal me lo ricordo Ok Io intanto sai che faccio? Praticamente creerò questa roba Per farti capire che tu stai essendo egettato nello spazio Ecco questo Che cos'è? Ecco così Ah ho capito fighissimo Eh molto bello Però Ok Ecco Io intanto guardo la tosta Molto bello Il tempio Aspetta Non hanno finito A me sembra che non avete finito quindi Sembrerebbe proprio Ma aspetta il portellone questo qui serviva per uscire no? Eh non fa niente ci attacchiamo Eh abbiamo finito davvero quasi No 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 è bello Si può trovare in casa nostra comunque Ah ah Beh è bello Intrigante Molto bello Molto bello Hai sentito Alex Nautz? Sembra che loro Non è neanche un'entrata Non è neanche un'entrata Che poveri Certo che ce l'abbiamo l'entrata Oh Che state a dire No ce l'abbiamo l'entrata Però aspetta un secondo Veramente Un minuto Mezzo secondo Un minuto Un minuto Arrivate voi Appena finisce il minuto Arrivate voi però Sì 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 Allora Giorgio Allora Ok Ho pensato Nella zona tipo Del generatore no? Ci sono le tv qua Io non le trovo Eh le tv Sì ci sono Però io non mi ricordo Le tv Aspetta Non ti ricordi Se tu scrivi tv no? Eh non la trovo Questa Questa non è una tv Ma perché a me non spunta? TV Eh ho cercato tv Ah ho capito Perché devi tenere cliccato Sulla bussola Scemo Ah è vero Ok Sei proprio però scemo Ah così Oh Allora io ho pensato Di mettere un monitor Come quelli che ci sono Nella sala del generatore No? Sul tavolino Così guarda No? Eh? Sì Sì Potevamo fare la medie base Secondo me era più facile Sì è vero anche quello Però non ci ho pensato Mi dispiace Va bene Non me ne frega Non fa niente Oh ma stanno girando Attorno a casa nostra loro Perché stanno girando Come devi avvolto io Allora io stavo pensando Che il tempio del boomerismo Non è abbastanza boomerastico E perché io ho messo Le incudine che sono antiche Perché non le usa nessuno Ma ci serve cose più antiche Tipo Che ne so Aspetta Cioè tipo Non è vero che le incudine Non le usa nessuno comunque Eh tipo Ah beh sì Quelli no Della tradizione Allora se tu scrivi table No ti esce L'alchemy table Ok Che è ancora più Ah quello delle pozioni pazze Eh ma non ci entra No Ci entra Ci entra Non ci entra Giorgio non ci entra Aspetta 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 Siamo scemi Cosa C'era il tappetino Eh Oh sei bravissimo Eh perfetto Secondo me è abbastanza Bimerastico Ok Secondo me abbiamo finito Che dici Va bene Non si può entrare in casa Ma non è un problema Non ce ne frega un accidenti Andiamo su vai Pronto Abbiamo finito Finito Pazzesco Pazzesco Bravi bravi Allora iniziamo dalla nostra Però questa volta Ok Va bellissimo Allora da fuori potete vedere È un unico Among Us Però Con un big brain Guardate da dietro Questo suo gigantesco Big brain time Che sembra un'altra cosa Ma molto big brain Sembra un sedere Però Il cervello sembra un sedere Non è Alex comunque vero Assolutamente No no assolutamente no Lui è little brain Questo qua sono io Per tu fande Però rosso Perché oggi Mi andava di essere rosso Va bene Va bene ci sa Allora potete vedere Che qui all'esterno Abbiamo le sedie Per i bambini esclusi Quelli che perdono E vengono esclusi E poi dentro Potete vedere Questa è una tipica stanza Di Among Us Con varie task da fare Per esempio Tra le task possiamo Annoverare Venire al computer E guardare delle foto Di Alex Se sei giorno No Poi passare L'aspirapolvere Task Poi pulire gli scheletri Poi prendere Da mangiare Un crunch bar Se sei Alex Poi ad esempio Anche fare la lavatrice Oppure Entrare nel metal detector Per vedere Se si hanno Dei soldi Accettabile È carino Accettabile Molto bello Molto bello Dite bello Andiamo a vedere Anche il vostro Molto bello Grazie mille Allora il video Finisce qui Lion Anna E Alex Out Ok No no Vediamolo vostra Vai Anna Ok allora Questo sono io Vedi Purple Plump Che ho i capelli Hai presente Il capellino Ecco Ho scelto Che questo è Giorgio E dentro Se vedi C'è il tempio Dedicato a Giorgio Vedi Il sacro tempio Del formaggio Bello Esatto Mentre qui c'è L'altro pupino Che è Feri Che è la mia solita Compagna di avventure E questo è il tempio Boomerastico Vedi qua c'è il tavolo Boomerastico Sì Il tavolo dell'alchimista E questo è il personaggino Di Feri Questa invece sono io Entriamo però Anna Ma c'è un'entrata Di sto posto Ero Spaccare il vetro Entrata magica Wow Wow Bellissimo Mi dispiace Ero Spaccarne 60 vetri Però Scusa Catorgina Puoi tacere Che c'è Cosa c'è No no È stato un caso È stato assolutamente Un caso Secondo me l'ha visto Catorgina dalla porta Quella stuspezza No è vero Dai Anna prosegui Allora Qui come vedi Questa è la sala centrale Della caffetteria Sì Questa qui È praticamente Dove vengono espulsi Tutti quanti Vedi che c'è Lo spazio siderale Beh Questa è una bella cosa E qui c'è il pulsante rosso Che tu devi premere Se succede qualcosa Qui invece abbiamo Carino La sala quella lì Del controllo Vedi con i computer E dall'altro lato Abbiamo la sala Del generatore Vedi questa di qua Ah è un po' schifo Non lo dici a noi Perché le ho fatte Quelle due salette Queste due le ha fatte Giorgio Cioè che inutile Persona inutile Che sei È molto bello Che schifo Che schifo Alex Non vedi di spaccare Allora Mio amico Alex Alex per favore Vieni qui con me Sono molto contento Di aver scelto te Per questa sfida Alex ha rotto tutte cose Non è vero No no Sono davvero contento Guarda Giorgio Che schifezza ha fatto Quindi io e te Alex Per fortuna Siamo una squadra vincente Sì Scusa perché Non ci credete neanche voi Guarda Guarda in faccia Alex Guardalo per favore Vabbè è brutto Però è bravo A costruire Cioè Bravino dai Quando non tocca le mie cose Quando capi Che è successo Cos'è successo È esploso Eh va a dire le cose brutte In faccia E poi viene esploso Questo si chiama karma Alex mi ha fatto esplodere Cosa vuol dire Cosa hai fatto Credo che l'abbia ucciso È divertente per te Non si ride Non si ride Guarda tutta la schifezza Cattorgica per terra Lì eh Vai a pulire Tutta la schifezza Cattorgica Comunque tuttavia 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 Posso dire che Anche la vostra casa Era bella Specialmente la stanza centrale Molto carina Grazie Quindi per ora Il voto tocca a voi Noi ci fermiamo E da Lion Mi raccomando farfallina Per me Cattorgina Panino per Alex E Lionnino Va bene Per Lion Vittoria facile Giorgio e Alex Out Ciao Ciao